Le brillanti prestazioni con l'Under 15 del Pescara Calcio hanno aperto al giovanissimo Leonardo Cardilli, classe 2007 di Pratola Peligna, le porte della Nazionale di Calcio Under 15, allenata dall'ex ottimo centrocampista di Ascoli, Ancona, Palermo e Napoli, Massimiliano Favo. Con tre suoi compagni di squadra, l'attaccante pratorano si è allenato con il gruppo azzurro dei parietà presso il centro sportivo Giulio Onesti di Roma, una bellissima soddisfazione per il centro avanti, figlio dell'attuale allenatore del Nero Stellati, Pietro Cardilli. A Leonardo Cardilli sono arrivati gli auguri, complimenti dell'amministrazione comunale di Pratola Peligna.